Si parla della riforma che prevederebbe il taglio di esami inutili per risparmiare in sanità. Noi chiediamo ad Andrea Quartini, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, medico e membro della Commissione Sanità, quali potrebbero essere le conseguenze di questi tagli sulla sanità toscana. Intanto vorrei sottolineare che non esistono esami inutili, quelli inutili semplicemente non esistono, non si fanno ma non ha neanche senso proporli gli esami inutili. L'esame è inutile, una volta fatto si può decidere che era inutile, ma prima di farlo ovviamente gli esami non sono inutili, sono sempre di solito legati a un'indicazione, a un'indicazione clinica. Il medico è un professionista qualificato, ha fatto mediamente 15 anni di scuola per tra master, specializzazioni eccetera. Quindi è difficile pensare a un collega, io sono medico, che prescrive esami inutili. C'è un problema però, il problema della medicina difensiva, questo sì, che è una medicina che serve per difendere non tanto il paziente quanto il medico, cioè dal rischio di contenziosi legali perché arriva tardi alla diagnosi eccetera. E oggi abbiamo dei cittadini anche più informati, quindi è anche più facile arrivare a un contenzioso legale. L'appropriatezza però non può essere destinata solo alle capacità del medico di distinguere tra ciò che è utile o inutile o alla sua paura e quindi al suo atteggiamento difensivo rispetto al rischio di contenzioso legale. Bisogna coinvolgere tutti gli attori, bisogna coinvolgere le organizzazioni delle aziende, dei farmaci che producono tecnologia sanitaria, bisogna coinvolgere gli utenti, bisogna fare un'educazione in questo senso. Credo che attribuire solo al medico questa responsabilità sia un grande errore. Tra l'altro lo stanno scoprendo anche pazienti perché sono preoccupati anche pazienti di questa chiusura a livello centrale del sistema rispetto all'appropriatezza. Non c'è solo l'appropriatezza clinica, lo voglio ricordare, c'è anche un'appropriatezza amministrativa. Un sistema ASL che è organizzato spesso con approssimazione non può pretendere che i professionisti riescano a orientarsi in maniera adeguata e quindi credo bisogna rimettersi un attimo a discutere tutte le questioni.